Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Parto dalle cose semplici, quindi un piccolo spam. Oggi intorno alle ore 15 ci troviamo in live su Twitch per una delle solite dirette extra calcio che facciamo quando non giocano le partite della Juventus. Se non avete mai assistito a una di queste dirette vi aspetto, magari potreste trovare dei contenuti alternativi interessanti portati sempre dal sottoscritto. E poi voglio ringraziarvi perché veramente l'andamento dei video, il post partita, la live reaction, le pagelle, la live reaction è quasi arrivata a 8000 like, quindi una follia. Grazie mille, è stato molto bello vedere che anche voi vi siate emozionati all'interno di questi giorni, di queste ore di Juventus straripante. E quindi è molto bello quando riusciamo a venirci incontro all'interno di queste emozioni che sono veramente uniche perché io credo che sia stata una delle davvero partite più emozionanti della Juventus degli ultimi anni. Ed è molto bello vedere la community che si unisce, nuove persone che arrivano e siamo sempre qua e saremo sempre qua a parlare della Juve nel bene e nel male. Poi quando va bene è ancora meglio. Ma dobbiamo parlarne anche nel male perché poi ieri abbiamo avuto la conferma, la notizia che mai avremmo voluto leggere. Io speravo, speravo davvero che Bremer potesse essersi salvato da questo intervento e da questo infortunio che è troppo brutto per essere vero, ha maggior ragione per un giocatore così forte, per il momento della stagione in cui siamo. Ma alla fine la notizia è stata confermata, legamento crociato, più menisco addirittura per Bremer. Stagione finita, gli auguriamo che possa avere il tempo per recuperare al meglio e che possa riuscire nell'impresa di tornare l'anno prossimo in campo, almeno su questi livelli. Perché è un infortunio che va a limitare per forza di cose l'andamento, la crescita, la carriera di un calciatore e servirà un po' di tempo per riuscire a tornare davvero a quei livelli. Quindi non solo l'operazione, non solo la riabilitazione, quello che importa a me è vedere nuovamente Bremer giocare ai livelli da Bremer perché in questo momento davvero secondo me era il miglior giocatore della Juve, l'insostituibile perché in caso di condizioni fisiche ottimali Tiago Motto non aveva mai rinunciato a lui. È una dura perdita, una dura perdita e non so se è una coincidenza o meno aver subito più gol rispetto a tutte le altre partite in stagione proprio nel momento in cui Bremer è uscito dal campo. Tanti club gli hanno fatto gli auguri, questa cosa mi è piaciuta tantissimo a partire dall'Ipsia. L'Ipsia ragazzi ha dato lezione di sportività a chiunque o bene o male a qualsiasi club che abbiamo affrontato nell'ultima decade, bene o male, veramente dall'inno dell'eventus nel riscaldamento a tutti i tweet che ha lasciato nei confronti anche dei giocatori infortunati. Complimenti perché vivere il calcio nella maniera più sana possibile le due punti, prendere esempio dall'Ipsia. Si è parlato nelle ultime ore di alcuni nomi potenziali per sostituire Bremer nell'immediato. Quindi calciatori che in questo momento non hanno un contratto e che possono firmare da parametro zero a free agent su tutti. Se andiamo a prendere e spulciare la lista dei giocatori svincolati leggiamo il nome di Matip, di Kier, ma il nome più ingombrante per la carriera che ha fatto e per il tipo di giocatore che è, è quello di Sergio Ramos. Ora, aggiungo anche il nome di Balotelli, perché abbiamo avuto anche un'operazione per Milik, ginocchio sinistro di Milik, che non mi convince tanto, devo essere onesto, perché sin dal clip, dal video dell'infortunio di Milik con la Polonia e dalla diagnosi di un mese di stop. E io ho detto, boh, soltanto un mese di stop, uno come Milik con tutti i problemi che ha avuto alle ginocchia e con quel tipo di infortunio, mi sembra un pochino sottovalutare il problema, dire che per Milik è quello un infortunio di lieve entità. E infatti ha saltato l'Europeo, doveva tornare a disposizione dopo l'Europeo, non ha fatto la preparazione, doveva tornare a disposizione dopo la prima pausa nazionale, la seconda pausa nazionale, adesso parliamo di operazione, ci apprestiamo a vivere un'altra pausa nazionale. Milik è un giocatore che dal punto di vista fisico oggi non dà garanzie e sicuramente è stato sottovalutato un pochettino il problema della lunghezza in attacco, perché oggi abbiamo Vlaovic e Vlaovic soltanto. Ma non perché Vlaovic non debba giocare, non è quello il punto, il punto qual è che se Vlaovic giustamente dovrà andare in turnover, con anche l'infortunio di Nico che sarà fuori per circa un mese, oggi non abbiamo così tante alternative. Quindi i nomi di Balotelli e Sergio Ramos possono essere nomi confermati, concreti per la Juventus? Per me no, per me no, ma non perché non servano giocatori. Sulla difesa è sempre un po' quello che vi ho detto tutta estate, io uno come Rugani, che ha rinnovato a ribasso e che non ha mai rotto le scatole e che quando gioca dimostra essere un giocatore affidabile, me lo terrai stretto, perché erano dei momenti in cui avrai bisogno di avere anche lui. Però è anche vero che in questo momento la Juventus ha realizzato una struttura in cui banalmente sugli esterni i primi due cambi ai titolari che sono Cambiaso e Calulu sono Savona e Rui. Giocatori della Next Gen, aggregati alla prima squadra, hanno rinnovato il loro contratto con la Juventus e sono diventati a tutti gli effetti calciatori della prima squadra. Calciatori che in una maniera o nell'altra ti danno idea di avere qualcosa di speciale. Banalmente sto pensando a due partite importanti della Juve, le due partite più importanti della Juve in stagione sono con il Napoli e con l'Ipsia. A sinistra nel Napoli e nell'Ipsia giocano due giocatori di riferimento assoluto come Kvara e come Xavi Simon e chi li ha marcati tutte e due le volte è Savona. Certo, andando in difficoltà, stiamo parlando di due giocatori di altissimo livello nel panorama calcistico europeo e tutte e due le volte Tiago Motta si è fidato di lui e l'ha messo titolare. Traduco, Danilo no e abbiamo visto a Genova perché è probabilmente oggi un po' indietro nelle gerarchie, però abbiamo due giocatori come Danilo e Cabal che oggi non stanno praticamente giocando e io sinceramente piuttosto che andare a prendere un giocatore svincolato di quasi 40 anni e che va in controtendenza rispetto alla volontà della Juventus di abbassare l'età media, di abbassare gli ingaggi eccetera eccetera andrei a fare con quello che ho già in casa e che in questo momento non stiamo vedendo con continuità, cioè Cabal e Danilo. L'altra sera la Juventus ha schierato la formazione più giovane della storia della Champions League. Andare a prendere Sergio Ramos secondo me va molto in controtendenza. Su Balotelli che ho un attaccante svincolato in generale, beh vi dico che Balotelli per me oggi non può essere considerato a livello Juve, cioè decisamente meno, non so neanche se ci sono delle squadre di Serie A interessate a tesserare Balotelli in questo momento oggi, proprio dal punto di vista del rendimento fisico. L'ultima volta che abbiamo visto Balotelli in Serie A non abbiamo assistito a dei capolavori, anzi è dei anni che gioca in campionati meno competitivi rispetto al nostro. Quindi se per me l'attaccante oggi è più una priorità, io cerco di ragionare nel modo in cui giunto le Tiago Motta ci hanno abituato a ragionare con questa Juve, e cioè delle due vado a cercare un ragazzo interessante all'interno della Next Gen, lo aggrego alla prima squadra, lo faccio allenare con i giocatori della prima squadra e provo a portarlo a livello almeno rotazione del turnover. Questa secondo me è la strada che vuole percorrere la Juve e sarei sorpreso di vedere giocatori come Kier, Sergio Ramos o Balotelli firmare per la Juventus in questo momento qui, anche se ovviamente ci sono sicuramente delle necessità dal punto di vista numerico, però questa è un po' la mia lettura. Voglio andare oltre questo discorso, voglio entrare a piedi pari all'interno di una considerazione puramente emotiva, e cioè per la prima volta in stagione la Juventus è andata in svantaggio. Aggiungiamo un carico a questa cosa, perché è andata in svantaggio per ben due volte all'interno della stessa gara. Fino a questo momento, anzi fino al fischio di inizio di Lipsi e la Juve non era mai andata in svantaggio, figuriamoci due volte all'interno della stessa gara. È la prima volta nella storia della Juve in Champions League che la Juve rimonta un doppio svantaggio. Non stiamo parlando di un'impresa da poco. Io ho letto commenti di persone che stanno cercando di sottovalutare questa roba. Siamo solo alla seconda giornata di Champions, nessuno dice vinceremo la Champions, però ragazzi se non ci si esalta, non ci si emoziona, e sì bisogna utilizzare il termine esaltarsi in queste serate, perché veramente è l'essenza del calcio, e se non ci si emoziona, e se non si è contenti, e se si sottovalutano serate del genere, allora perdonatemi, perde completamente senso, guardare una partita, seguire una stagione di una qualsiasi squadra, perché queste sono serate che fa la storia, che ti ricorderai per sempre, che magari un giorno andrai a raccontare a tuoi figli come quelle serate in cui la Juve ti ha dato quelle emozioni fortissime. Sicuriamoci in dieci uomini, fare questa impresa che non c'era mai riuscita nella storia di Champions, pure in undici, mi sembra un po' sbagliato sottovalutare questa serata, mia personalissima opinione. Però abbiamo visto una mentalità vincente, una voglia di vincere, di non arrendersi, di raggiungere il risultato, clamorosa, e per anni ci siamo raccontati che quella mentalità, quella voglia lì, deve arrivare dall'allenatore in primis, l'atteggiamento della squadra viene sempre dall'allenatore, dalle idee che ha l'allenatore, da quello che vuol fare l'allenatore in un determinato contesto di squadra. Vedere questa voglia in dieci uomini mi ha commosso, tant'è che ieri nelle pagelle vi ho detto il migliore in campo per me è Tiago Motta, perché ha fatto un cappolavoro, perché non è scontato in Champions in dieci sotto di un gol, con due dei tuoi giocatori chiave infortunati, con il portiere spulso, entra il secondo, esce un attaccante, dire adesso stiamo alti e andiamo a vincerla. Non è scontato, per niente, quindi per forza di cosa dobbiamo parlare bene di Tiago Motta. Quindi ora, dal punto di vista sportivo, lasciando stargli infortunati e la rosa che ha delle carenze in alcune parti, solo dal punto di vista sportivo, la Juve è ancora in battuta, in Serie A non ha ancora mai preso gol, in Champions ha punteggio pieno, in Serie A è al secondo posto un punto dal Napoli capolista, oggettivamente le cose per la Juve stanno andando molto 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 bene, è un ottimo avvio di stagione per la Juventus, davvero di alto livello, con partite in cui si poteva fare meglio, indubbiamente, ma la Juventus dal punto di vista dei risultati sta facendo molto bene. E prima ero curioso di vedere la reazione della Juventus a una partita in cui andavo in svantaggio, ora sono curioso, ma spero che possa non arrivare mai questo momento perché sarebbe meraviglioso, ma ora sono curioso di vedere la reazione della Juventus dopo una sconfitta. Oh, non è detto che debba arrivare, eh? Cioè, Antonio Conte è il primo anno di Juventus, dopo due settimi posti consecutivi vince un campionato da imbattuto ed è stato meraviglioso, quindi non è scontato nemmeno che arrivi la sconfitta, anzi può succedere un miracolo, no? Poi quell'anno avevamo pareggiato tante partite e c'eravamo anche a un certo punto messi in dubbio la possibilità di vincere lo Scudetto, però è ovvio che in questo momento qui mi piace immaginarmi una Juventus stressata da quel punto di vista, per cercare di capire fino a che punto può spingersi questa squadra, perché noi siamo degli spettatori interessati a quello che accade lato Juve, ma neanche i protagonisti stessi sanno che cosa succede nei momenti difficili. Ora, penso alla Juve dell'anno scorso, che era arrivata fino a gennaio, a giocarsi comunque la possibilità di portare avanti la lotta Scudetto fino all'ultima giornata con l'Inter. Poi c'è quel pareggio di Empoli con l'espulsione di Milic e quella squadra che era palese, che a un certo punto non potesse continuare così perché stava palesemente overperformando, soprattutto dal punto di vista difensivo, si è rotto quel meccanismo, la Juventus è saltata via di testa, non c'è stato più modo di vincere una partita fino alla finale di Coppa Italia, che è stata una delle poche partite vinte della Juventus da inizio gennaio fino al termine della stagione con Allegri in panchina, perché poi è arrivato Montero, ha fatto quattro punti nelle ultime due, segno che c'era proprio uno stress emotivo alla base di quei risultati della Juve. Però questa Juve non è come quella dell'anno scorso. Cioè, in quella dell'anno scorso avevano davvero la sensazione che un fruscello di vento potesse far crollare tutto. E così è stato, espulsione di Milic, 1-1 con l'Empoli, gol di Baldanzi, la Juventus è finita, morta, andata, non c'è stato più possibilità di riprendersi. In questa io ho un'altra sensazione, non mi sembra minimamente, anche perché dal punto di vista della partita, non mi sembra che questa Juve stia overperformando. Magari se andiamo a scavare alcuni dati e andiamo a cercare i dati, sì, è ovvio che puoi sempre dare una lettura di overperforming a un determinato dato, ma questa mi sembra una Juventus con le idee chiare su cosa fare, quando ha la palla, quando non ha la palla, quando recupero la palla, quando recupero la palla di vantaggio, quando recupero la palla di svantaggio. Cioè, questo è un evento che ti dà la sensazione di essere una squadra vera. Quindi, ora le cose stanno andando bene, benissimo, perfetto, non sono nemmeno volenteroso di arrivare a quel punto in cui magari andiamo a perdere una partita, però sono curioso di saper la vostra opinione. Secondo voi questa squadra, quando, forse, se, ma un giorno dovesse mai arrivare il momento di stop, come reagirà? perché la mia sensazione è che possa comunque reagire bene, rendersi conto che è soltanto un punto, una battuta d'arresto e chi ha le consapevolezze e la potenzialità per fare molto bene e che si vada avanti così, anche magari in una condizione di emergenza. Anche banalmente una condizione di emergenza potrebbe essere perdere Bremer, no? Cioè, ora, come ci aspettiamo la configurazione titolare della Juventus? Entra Cabale Cambiaso va a destra, con Gatti e Calu centrali, boh, può essere. Entra Danilo al posto di Bremer, boh, può essere. Diventa titolare Savona, boh, può essere. Ce ne sono tante di letture, veramente tantissime. Quindi dobbiamo cercare di capire come l'avvento si riuscirà a fare di necessità di virtù anche di fronte all'infortunio di Bremer. Però la mia sensazione, che può essere palesemente errata, è che questa Juve possa comunque dirla su anche di fronte a dei momenti di emergenza, di crisi e dove sembra impossibile scalare la montagna. Ed Ipsi a Juve questa cosa ce l'ha insegnata. È per questo che vi dico, non sottovalutate quella notte tedesca. Non fatelo, perché c'è tanto da imparare anche per cercare di capire come leggere effettivamente questa squadra. Fatemi sapere le vostre risposte nei commenti. Ciao.